La Casa Comunale di Agropoli si è riunita per discutere diverse tematiche, tra cui l'approvazione della programmazione della Cittadella dei Giovani 2021-2023. La Cittadella dei Giovani, dai 18 ai 35 anni di Agropoli, rappresenta un centro permanente di attività ed iniziative a sfondo culturale, sociale ed artistico, a cui si aggiungono attività formative anche a livello semiprofessionale di informazione. Nasce nell'ambito delle politiche giovanili come servizio presso il quale prendono vita progetti su iniziativa comunale o su iniziativa dei cittadini e degli operatori del terzo settore. La programmazione 2021-2023 sarà a costo zero perché basata su volontariato. Infatti è prevista la programmazione e l'espletamento di diversi laboratori gratuiti di scrittura creativa e teatro, basket, lingua straniera, ceramica, cartapesta, fotografia, cucina e corsi di diritto degli enti locali e governo del territorio. Le attività si terranno presso Palazzo Civico delle Arti in via Carlo Pisacane numero 11. Sulla delibera viene sottolineato che la suddetta programmazione sarà integrata con tutti gli altri progetti che partiranno con avviso pubblico oppure su proposta dei cittadini o degli operatori del terzo settore. Le suddette proposte di collaborazione, nonché le adesioni o domande di partecipazione da parte dei giovani dovranno essere inviate all'indirizzo mail della cittadella, ovvero cittadelladeigiovani.comune.agropoli.sa.it. Nella delibera inoltre si chiede non solo di approvare la programmazione ma di dichiarare che le attività saranno svolte nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.